Maria Lucia Revisore-Porto 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 Bene, devo ammettere pubblicamente davanti a circa mille persone che ho volontariamente scelto una fotografia in cui sono ma molto più giovane. Nei prossimi 15 minuti parleremo di sanità e salute. E non sarà una presentazione divertente. Sarà una presentazione tragica, a volte drammatica. Perché? Perché chi ha la fortuna come me di lavorare come medico e di fare ricerca sa molto bene che noi al di fuori delle nostre conferenze scientifiche non veniamo mai chiamati in situazioni come questa se tutto va bene. La nostra presenza è sempre associata a qualcosa che nel mondo della salute va male. Quindi cominciamo subito col cercare di eliminare un falso mito. Il nostro corpo non è puro. Noi non siamo sterili. All'interno del nostro organismo noi abbiamo più di mille specie batteriche alcune buone ed altre cattive che vivono in un perfetto equilibrio di uno a uno. Per ogni cellula umana c'è una cellula batterica. Questo ci permette di vivere in salute. Ma attenzione, questo equilibrio è indispensabile ma non è sufficiente per vivere in perfetta salute. Perché? Perché quello che sappiamo adesso è che la nostra salute è la derivazione di tre momenti differenti. Noi possiamo vivere in quella che si chiama One Health che è molto difficile tradurre in italiano sarebbe la salute con la S maiuscola o l'unità di salute che è solo ed esclusivamente quando tutto quello che viene fatto nel mondo animale, nel mondo vegetale e sugli esseri umani nel campo della salute è in perfetto equilibrio. Quindi se per esempio io faccio un intervento di salute sugli animali senza considerare le conseguenze sull'uomo questo sicuramente romperà questo equilibrio e porterà ad alcune patologie per lo più di tipo infettivo. E qual è l'allarme che esiste in questo momento in Italia per la rottura di questo equilibrio? Sono le infezioni antibiotico resistenti. Cosa sono le infezioni antibiotico resistenti? Sono quelle infezioni causate da batteri che non rispondono più a nessun antibiotico presenti al momento sul mercato. Questi dati che provengono da un centro di controllo per le malattie infettive europee che si chiama ICDC e che è a Stoccolma approvato per l'Europa nel 2015. Quindi attenzione sicuramente i dati spostati al 2019 sono molto più importanti ma nel 2015 in Europa sono state documentate più di 600.000 infezioni causate da batteri antibiotico resistenti e 33.000 decessi. Di questi 33.000 decessi, più di 10.000 si sono verificati solo in Italia. E io sono sicura che la maggior parte di voi non aveva nessuna informazione a questo proposito. Questo è quello che io chiamo lo tsunami silente della sanità italiana. Quando su una mortalità di 33.000 morti un terzo si verifica in una sola nazione europea e con noi c'è solamente la Grecia perché tutto il resto dell'Europa in particolare il Nord Europa ha un numero di morti estremamente inferiore vuol dire che chiaramente c'è un problema. Qual è il problema? Difficile dirlo in 15 minuti ma ho scelto di raccontarvi la storia di due donne. La prima donna si chiama Maria Vittoria nasce nel 1924 a Verona da una nobile famiglia. È una bella ragazza, un po' gracile e si sposa molto presto con il giovane pupillo del direttore dell'ospedale un medico estremamente promettente che decide di ricoverare la moglie quando sta per avere un bambino. Non era normale a quei tempi ma lui voleva proteggerla perché la vedeva, come ho detto prima, piuttosto gracile. Il 24 marzo nasce Francesco Giuseppe figlio maschio, in ottima salute. Sono tutti estremamente felici purtroppo poche ore prima che Maria Vittoria lasci l'ospedale si sente sempre più debole ha uno svenimento parte una febbre elevatissima comincia ad avere brividi scuotenti perde completamente conoscenza peggiora in 72 ore riesce a risvegliarsi una sola volta per pochi minuti vedere suo figlio e poco dopo morire. Cos'è che ha causato la morte di Maria Vittoria? È questo batterio si chiama Staphylococcus aureus è un batterio che probabilmente è penetrato nel sangue di Maria Vittoria dalle mani dell'ostetrica non perfettamente lavate e a quel tempo non c'era nessuna terapia per proteggere gli organi interni di Maria Vittoria ed è stata anche molto sfortunata perché pochi mesi dopo arriva in Italia e in tutta Europa e anche nel resto del mondo la penicillina che non è il cocktail dell'attore famoso di cui prima ma fortunatamente non essendo un cocktail ha permesso di salvare come dice questo manifesto che è un manifesto vero inglese del periodo subito dopo la guerra grazie alla penicillina i nostri soldati sono tornati a casa perché? perché la penicillina ha potuto curare le infezioni delle firite che i soldati avevano avuto durante la seconda guerra mondiale dopo la penicillina arrivano molti altri antibiotici e ci saranno tantissime infezioni che verranno curate grazie a questi antibiotici ci saranno tantissime Maria Vittoria, Laura, Sofia, Marco, Giovanni che verranno ricoverati e potranno tornare a casa sembrerebbe una storia agli etofine in realtà non è così e nonostante negli anni 70 qualcuno abbia detto finalmente con gli antibiotici abbiamo debellato le malattie infettive non è successo e la situazione è molto più grave la seconda donna si chiama Sofia bella ragazza questa volta non nasce da una famiglia ricca perché le malattie infettive non hanno correlazione con il reddito e nasce invece a Milano dal quartiere di Isola a 24 anni si ricovera per un'appendicectomia in un ospedale di Milano siamo all'inizio degli anni 2000 non si prevedevano problemi particolari purtroppo qualche ora dopo l'intervento Sofia presenta gli stessi sintomi di Maria Vittoria febbre elevata, brivido scotente, ipotensione la trasportano immediatamente in rianimazione perché adesso abbiamo molte più possibilità che nel 43 e viene collegata addirittura ad un monitor viene collegata ad un monitor ad un apparecchio che le permette di respirare nonostante tutto questo dieci giorni di agonia e Sofia muore perché muore Sofia? perché nel suo sangue c'è la klebsiella pneumoniae questo batterio era resistente a tutte le terapie antibiotiche presenti sul mercato in Italia in quel momento perché siamo arrivati a questo? per due motivi fondamentali primo l'utilizzo di antibiotici in maniera eccessiva sull'uomo e sugli animali ha provocato una pressione sui batteri e ne ha favorito lo sviluppo di resistenza non esiste nessun antibiotico che non provochi resistenza prima o poi ci sono antibiotici che provocano resistenza dopo poche ore dalla messa in commercio e alcuni altri antibiotici che lo provocano dopo cinque anni ma non esiste un antibiotico senza resistenza e qual è l'altro grosso enorme problema che abbiamo oggi? che le case farmaceutiche non producono più antibiotici sono vent'anni e anche questo sono sicura che molti pochi di voi lo sanno sono più di vent'anni che nessuna casa farmaceutica produce un antibiotico che abbia una molecola nuova significa che tutto quello che è stato messo sul mercato negli ultimi venti anni ha una semplice piccola modifica a livello di costituzione dell'antibiotico che quindi facilita lo sviluppo di resistenza perché le case farmaceutiche non sono interessate credo che sia ovvia la risposta perché non è interessante economicamente molto meglio investire in farmaci per il diabete molto meglio investire su chemioterapie rispetto alla terapia antibiotica e questa è la situazione dell'Italia per la clebsiella oggi questi sono i dati sempre degli ICDC di cui vi parlavo prima cosa significa questo rosso? che per cento persone come Sofia che hanno la clebsiella a pneumonie nel sangue oggi nei nostri ospedali più del 50% non ha possibilità di risposta agli antibiotici in commercio cosa possiamo fare? sono una persona estremamente ottimista quando le persone del mio team sia qui che in Germania vengono da me e mi dicono che c'è un problema io non vedo il problema ma cerco di focalizzare immediatamente sulle soluzioni e sicuramente ci sono delle soluzioni direi che ci sono tre livelli di soluzioni le prime due legislativo e medico sono nelle nostre mani questo è quello che noi facciamo ogni giorno con i nostri gruppi di ricerca lavoriamo con l'OMS lavoriamo con gli ICDC lavoriamo con l'America abbiamo lavorato con il G7 con il G20 per cercare di avere dei documenti e dei progetti che convincano le case farmaceutiche a produrre più antibiotici cos'altro facciamo? lavoriamo negli ospedali con quello che probabilmente molti di voi hanno sentito come stewardship antibiotica cos'è lo steward? è quello che vi accompagna quando entrate sull'aereo quindi noi facciamo dei programmi che aiutano i medici a prescrivere meglio gli antibiotici e in questo orgogliosamente dico che qui a Verona in questo momento abbiamo dei progetti di stewardship per la terapia antibiotica che sono all'avanguardia in Italia e in Europa ma quello che a me interessa di più oggi è quello che potete fare voi voi e noi come cittadini ed esistono quattro cose essenziali in cui la vostra partecipazione è fondamentale prima di tutto il primo livello è quello legislativo voi dovete pretendere che la sanità e il problema delle infezioni antibiotico resistenti che non sono un problema solo nostro ma è un problema che ci sarà per le generazioni future sia nel programma di governo l'Italia è in una situazione estremamente strana la sanità e il problema delle infezioni ospedalieri antibiotico resistenti è all'interno di tutti i programmi di governo degli altri paesi ci sono state delle elezioni in Inghilterra che sono state vinte perché il partito che ha vinto aveva il miglior programma per ridurre il problema delle infezioni antibiotico resistenti questa è una nostra scelta e dobbiamo ripeto pretendere di vedere cosa fanno e pretendere di vederne i risultati il secondo punto è quando siamo dal nostro medico per avere la prescrizione di un antibiotico ricordatevi sempre l'antibiotico deve essere assunto solo se prescritto quindi se per esempio vi ritrovate tre compresse perché purtroppo non abbiamo ancora convinto le case farmaceutiche a produrre delle confezioni che siano equivalenti ai dosaggi che voi dovete prendere se io vi prescrivo sette giorni di terapia per un'infezione urinaria e nella scatola ci sono dieci giorni di terapia non pensate che se avete di nuovo i sintomi dell'infezione urinaria potete iniziare a prendere quelle tre compresse perché la terapia non è sempre la stessa e se voi assumete antibiotici non sotto controllo medico o se interrompete la terapia troppo precocemente il vostro intestino il vostro microbioma come si dice oggi a livello intestinale verrà completamente modificato e voi sarete più soggetti ad infezioni antibiotico resistenti terzo livello l'utilizzo di antibiotici negli animali non è sotto controllo perché vengono utilizzati gli antibiotici negli animali perché se un animale assume antibiotici ha un peso maggiore ed è per questo che vengono utilizzati gli antibiotici cosa possiamo fare noi come cittadini comprare e controllare che la carne che mangiamo in particolare quella di pollo esistono numerosi studi che dicono che lo stesso tipo di batteri con lo stesso genoma e DNA è stato trovato nei polli e contemporaneamente nel sangue delle persone che avevano delle infezioni con lo stesso tipo di batteri quindi controllate accuratamente che quello che voi mangiate provenga da culture biologiche oggi possono scrivere sulle confezioni dove non si usano antibiotici negli allevamenti ultimo punto ma molto importante attenzione all'igiene l'igiene delle mani sembra banale è essenziale essenziale quando andate in ospedale essenziale quando uscite da un ospedale essenziale all'interno della vostra famiglia nella prevenzione c'è anche la vaccinazione la vaccinazione delle fasce più deboli dei pazienti fragili pensate alla vaccinazione per l'influenza non serve solo a proteggere dall'influenza il paziente di 70 anni significa che se non avrà l'influenza non dovrà prendere antibiotici a seguire per le infezioni batteriche che sono più frequenti in chi ha avuto l'influenza cosa succede se noi non facciamo questo questa è la mortalità in questo momento per le infezioni antibiotico resistenti 700.000 morti nel mondo prima causa tumori cosa ci dice quella pallina rossa intorno alle infezioni antibiotico resistenti che nel 2050 se noi non facciamo nulla i morti saranno 10 milioni mentre i morti per tumore continuano a diminuire quelli per infezioni antibiotico resistenti continuano a salire e sarà la prima causa di mortalità come possiamo fermare tutto questo abbiamo detto all'inizio che resistenti agli antibiotici non si nasce ma sicuramente si diventa e io vorrei aggiungere che lo si diventa solo se noi rimaniamo fermi a guardare e se voi non esercitate il vostro diritto di libera scelta grazie applausi Grazie.